ciao da luci oggi voglio presentarvi il mio vestito spring light è un vestito svasato creato con due cakes di appunto cakes cotton fine di italia artisan in questa bellissima sfumatura che va dal viola al verde poi passa per il grigio e arriva al rosa un po di panna e poi ovviamente io ho continuato prendendo una cakes dall'interno e una dall'esterno proprio per avere una continuità nelle sfumature questo mio vestito l'ho chiamato spring light molto molto bello quindi luce primaverile luce di primavera insomma interpretatelo un po a vostro piacimento è un vestito top down svasato come potete vedere che segna un po la linea ma neanche più di tanto l'ho voluto proprio fare così in modo da poter permettere alle persone come me che hanno un po di fiancotto nel poterlo indossare ovviamente se vi può piacere di più potrete iniziare anche la gonna da un pochino più in alto adesso sul manichino sembra molto bassa la vita in realtà addosso rimane un po più alta quindi comunque a me sul fianco sta benissimo io ho un fisico a pera quindi un po più piccolina sopra e un po più grossa sotto e devo dire che mi veste abbastanza bene come le amiche nel mio gruppo facebook avranno potuto vedere indosso cosa dirvi di questo vestito lo trovo molto bello può essere adatto sia per diciamo eventi formali o anche per tutti i giorni perché comunque è molto adatto un po a tutte le occasioni a me piace moltissimo sono molto contenta di averlo fatto è abbastanza facile nella realizzazione quindi magari per le esperte un po più facile per le principianti magari ci vuole un po più di attenzione però credo sia indicato anche per loro non c'è nessunissimo problema io non l'ho foderato ho messo sotto una semplice sottoveste in questo caso è di un grigio che tende al sabbia quindi adatto un po a questa colorazione infatti si vede e non si vede la sottoveste che ho usato io arriva a più o meno due centimetri prima della chiusura del vestito e quindi direi che ci sta benissimo vedete non segna sotto è proprio una semplicissima sottoveste voi volendo potreste anche farlo foderare a me è piaciuto così perché poi ho queste sottovesti che uso spesso sotto i vestiti e mi ci trovo bene ora ve lo faccio vedere un po più da vicino ecco qua potete notare il disegno dello scollo scollo molto ampio vedete lo scollo è molto ampio e vi dico già nella presentazione anche la gonna scusate ve la faccio vedere anche la gonna è bella ampia ecco in questo modo molto morbido vedete il filato come scende molto scivolato e quindi molto adatto a realizzazione di vestiti perché come vedete scende molto morbido cade bene allora io la spiegazione per il top down ve la darò poi anche in un altro video però vi dico brevemente che appunto se volete ingrandire lo scollo il multiplo è di 8 e potete fare un campioncino per vedere quanti moduli aumentare per allargare il vostro scollo se invece non volete allargare lo scollo perché comunque questo è già abbastanza ampio per aumentare la taglia vi basta semplicemente fare più giri allo strone quindi io ho fatto due sequenze del punto voi potreste farne tranquillamente 3 4 o quante volete e lo strone andrà allargandosi quando arrivate alla chiusura degli scalfi poi nel video vi spiegherò come ovviamente procedere io spero che vi sia piaciuto questo progetto vi mando un grosso bacio e vi lascio al tutorial ciao ciao da lucia il progetto di oggi come avrete visto dalla presentazione è il mio ultimo vestito ho voluto fare un vestito svasato perché per chi come me ha il problema del fianco un pochino largo io infatti ho un punto vita abbastanza stretto ma ho il cosiddetto fisico a pera quindi sono un po' piccolina sopra e tendo ad allargare sul fianco e sul sedere di conseguenza avevo bisogno di un vestitino per l'estate svasato e ho quindi fatto questo allora l'ho fatto con e qua c'è ciò che ne rimane quindi con cake cotton fine di icy arms avete visto sempre dalla presentazione la bellissima sfumatura di queste di queste cakes io ne ho usate in totale due per la lunghezza ecco un po sopra il ginocchio se volete farlo lungo vi consiglio di prendere due lotti ogni lotto è da due cakes io le ho lavorate con uncinetto del numero 4 e un uncinetto del numero 3 e mezzo dove volevo stringere un pochino sulla vita faremo anche delle diminuzioni ve le farò vedere non vi preoccupate appunto mi è avanzato questo ogni lotto è composto da due cakes da 150 grammi per 4 per 600 metri scusate mi stavo dicendo 450 mi confondevo con un'altra cake che non c'entra niente per 600 metri quindi io il mio vestito l'ho fatto con un totale di 1200 metri circa perché vedete che qua me ne è avanzato un pochino quindi comunque per arrivare per la mia taglia per arrivare sopra il ginocchio ne ho usate due se volete farlo più lungo vi consiglio di prendere due lotti per per avere appunto una lunghezza maggiore anche perché la gonna essendo svasata sul fondo consumeremo molto più filato che all'inizio e la parte centrale del vestito quindi il busto è lavorato a maglie piene quindi comunque è un punto tessuto non è un un punto traforato come lo sprone e la gonna di conseguenza anche quelle portano via un maggiore quantità di filato benissimo io per il avviare il mio vestito ho fatto 168 catenelle perché il punto che ho usato è un multiplo di 8 se volete avere lo stesso effetto sul collo quindi il collo con la stessa larghezza ma dovete cambiare la taglia quindi vi consiglio di aggiungere 16 catenelle per taglia quindi io l'ho fatto per una 42 per una 44 saranno 16 catenelle in più per una 46 saranno 32 catenelle in più e così via quindi per ogni taglia saranno sempre 16 catenelle in più che sono pari a due disegni due poi lavorando vi faccio vedere cosa intendo per disegni comunque due moduli completi e di disegno quindi due multipli suona meglio quindi andiamo adesso ad avviare il nostro lavoro ecco qui ho dovuto cambiare filato perché mi sono accorta che non si vedeva bene in con la videocamera e quindi ho dovuto usare un filato alternativo allora per il nostro campione ho avviato 56 catenelle ricordo è un multiplo di 8 quindi 56 è solo per il mio campione vado a chiudere in cerchio quindi io uso anche il cappietto come prima catenella vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima ecco qui ed ora una catenella e in ogni maglia sottostante vado a lavorare una maglia bassa quindi una due tre fino a 56 finito il giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro ecco qua abbiamo finito il nostro primo giro ora facciamo una catenella entriamo alla base di questa catenella quindi sulla stessa maglia bassa sottostante sulla quale abbiamo alzato la catenella e facciamo una maglia bassa entriamo nuovamente e facciamo una seconda maglia bassa quindi due maglie basse sulla stessa maglia bassa sottostante la prima 3 catenelle 2 3 catenelle saltiamo una due tre maglie basse sottostanti e sulla quarta andiamo a fare altre due maglie basse quindi entriamo per fare la prima e rientriamo per fare la seconda di nuovo 3 catenelle di nuovo saltiamo 3 maglie di base e sulla quarta una e due maglie basse continuiamo così per tutto il giro quindi 2 maglie basse sulla stessa maglia sottostante 3 catenelle saltando 3 maglie di base sulla quarta di nuovo 2 maglie basse così via per tutto il giro quindi fatte le ultime 3 catenelle andiamo a chiuderci con una maglia bassissima ecco qua sulla prima maglia bassa effettuata allora vediamo ne ho saltati giusto 1 2 3 perfetto allora ora camminiamo lungo queste due maglie basse ed entriamo all'interno del primo archetto da 3 catenelle una volta dentro rientriamo e facciamo una maglia bassa anzi meglio ci alziamo con una catenella si può fare anche senza farla ma secondo me rimane più precisa ci alziamo con una catenella entriamo ne facciamo la maglia bassa 2 catenelle e sempre nello stesso archetto andiamo a fare un'altra maglia bassa quindi ci ritroveremo con maglia bassa 2 catenelle maglia bassa all'interno dello stesso archetto ora effettuiamo 3 catenelle e nel prossimo archetto andiamo a fare carichiamo il filo 3 maglie alte 2 e 3 maglie alte in questo modo di nuovo 3 catenelle nel prossimo archetto di nuovo maglia bassa 2 catenelle e di nuovo maglia bassa 3 catenelle di nuovo nel prossimo archetto 3 maglie alte quindi questa sarà l'alternanza per questo terzo giro che poi a noi risulta come primo giro perché non il giro di maglia bassa si calcola solo come avvio del lavoro in realtà quello che stiamo facendo ora è il secondo giro ai termini del nostro lavoro quindi ricapitoliamo in un archetto facciamo una sequenza di punti quale maglia bassa 2 catenelle maglia bassa separiamo sempre con 3 catenelle nel prossimo archetto 3 maglie alte separiamo con 3 catenelle di nuovo maglia bassa 2 catenelle maglia bassa e così via per il resto del giro vediamo sempre con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa che incontriamo quindi questa volta camminiamo all'interno del primo vedete il primo archettino da due dopo la maglia bassa quindi camminiamo fino questo archettino una catenella e al suo interno andiamo a fare una maglia bassa 1 2 3 catenelle carichiamo il filo e sulla prima delle 3 maglie alte sottostanti quindi il modulo seguente questo andiamo a fare sulla prima due maglie alte sulla seconda la maglia centrale facciamo una sola maglia alta e sulla terza andiamo di nuovo a fare due maglie alte in questo modo 3 catenelle e andiamo a fermare con una maglia bassa all'interno di questo archettino piccolino da due catenelle in mezzo alle due maglie basse qui di nuovo 3 catenelle di nuovo carichiamo sulla prima delle proste il prossimo modulo da 3 andiamo a fare due maglie alte sulla seconda una sola maglia alta e sulla terza due maglie alte 1 di nuovo 3 catenelle e andiamo a fermare con una maglia bassa all'interno dell'archetto piccolino da 2 catenelle in questo modo e procediamo così per tutto il nostro giro quindi al termine del nostro giro facciamo le nostre 3 catenelle e andiamo a fissarle sulla maglia bassa sulla prima maglia bassa che avevamo fatto proprio sopra questo archetto da 2 ora dobbiamo camminare fino al blocco da 3 in questo modo passiamo sopra una catenella vi consiglio di entrare nella catenella e non avvolgerla perché se no si inspezzisce troppo il lavoro e risulta un po' bruttino quindi entriamo sulla prima maglia alta facciamo 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta sulla seconda del nostro ventaglietto facciamo la seconda maglia alta sulla terza facciamo la terza maglia alta 5 catenelle di separazione carichiamo e sempre sulla stessa maglia alta quindi sulla centrale andiamo a fare un'altra maglia alta dopodiché andiamo nella maglia a fianco e facciamo una maglia alta e in quella dopo una maglia alta quindi abbiamo fatto una maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglietto sottostante una maglia alta sulla seconda una maglia alta sulla terza 5 catenelle e un'altra maglia alta sempre sulla terza dopodiché sulla quarta e sulla quinta una maglia alta 3 catenelle scusatemi no adesso non ci sono più catenelle di separazione mi sono confusa allora quindi carichiamo il filo sulla prima maglia alta del ventaglietto successivo andiamo a fare una maglia alta sulla seconda di nuovo una maglia alta sulla terza una maglia alta 5 catenelle e di nuovo una maglia alta nella stessa maglia alta sottostante di nuovo maglia alta sulla maglia alta conseguente e maglia alta su quella dopo in questo modo vi faccio, visto che ho fatto un po' di confusione all'inizio vi faccio rivedere quindi carichiamo il filo andiamo sul prossimo ventaglietto quindi sulla prima maglia facciamo una maglia alta sulla seconda maglia facciamo una maglia alta sulla terza maglia facciamo maglia alta 5 catenelle e di nuovo carichiamo e facciamo una maglia alta così da avere, vedete, un punto V con 5 catenelle nel mezzo di nuovo sulla maglia alta consecutiva facciamo la maglia alta e sull'ultima del ventaglietto un'altra maglia alta quindi questa è la sequenza per tutto il giro vado a chiudere il quarto giro con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio dopodiché ho già camminato sulle maglie sottostanti con una maglia bassissima fino ad arrivare, vedete, all'interno di questo archetto quindi entrata in questo archetto faccio 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta una catenella di separazione dopodiché carico e faccio un'altra maglia alta di nuovo catenella di separazione carico un'altra maglia alta dobbiamo fare in totale 6 maglie alte separate da una catenella quindi di nuovo catenella vado a fare la quarta di nuovo catenella vado a fare la quinta di nuovo catenella vado a fare la sesta catenella e vado a fermarmi con una maglia bassa tra i due moduli quindi qua in mezzo mi fermo con una maglia bassa in questo modo di nuovo una catenella rientro all'interno del mio ventaglietto con una maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta siamo arrivati a 2, 4, 5 catenella maglia alta catenella maglia bassa all'interno vedete qua tra i due moduli di nuovo facciamo un altro ventaglietto insieme quindi catenella quindi catenella entriamo all'interno dell'archetto e andiamo a fare maglia alta catenella quindi 2 catenella 3 catenella 4 catenella 4 catenella 5 catenella 6 catenella ci andiamo a fermare con una maglia bassa qua al centro dei due ventagli di nuovo catenella e procediamo così fino alla fine del nostro giro giunti quindi all'ultimo ventaglietto facciamo la nostra catenella ci affranchiamo tra i due moduli facciamo la catenella e andiamo ad agganciarci sulla terza catenella ad inizio giro ecco qua allora vi faccio vedere intanto dove siamo arrivati siamo proprio qui abbiamo fatto questo vedete andiamo ora non guardate che è così questo filato è molto rigido per la registrazione va bene ma ovviamente per il vestito che ho fatto io non va benissimo quindi vedete che ha una insomma è un po' rigidino non curva bene però guardate sta venendo benino anche questo allora ora andiamo a fare il settimo giro quindi entriamo all'interno con una maglia bassissima all'interno del primo spazietto che c'è tra la prima maglia alta e la seconda in questo modo così facciamo la nostra maglia bassissima 3 catenelle ed ora andremo a fare dei punti puff quindi carichiamo entriamo nello stesso spazio nel primo spazio e facciamo una maglia alta chiusa a metà quindi facciamo cadere solo due fili ricarichiamo entriamo di nuovo e di nuovo facciamo cadere due fili qua noi abbiamo quattro in questo caso tre perché ovviamente la prima erano catenelle chiudiamo tutto e facciamo due catenelle carichiamo il filo e entriamo nel prossimo spazietto tra le maglie alte quindi entriamo chiudiamo solo due maglie ricarichiamo rientriamo nello stesso spazio facciamo cadere solo due maglie ricarichiamo stesso spazio facciamo cadere solo due maglie abbiamo quattro occhielli sull'uncinetto chiudiamo tutti insieme e facciamo due catenelle ve lo faccio vedere di nuovo rientriamo nel prossimo spazietto e facciamo solo cadere due maglie ricarichiamo rientriamo nello stesso spazietto carichiamo e facciamo cadere solo due maglie quindi facciamo 3 maglie alte chiuse a metà, in questo modo, chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, di nuovo, 3 maglie alte chiuse a metà nel prossimo spazio, quindi 1, 2, 3, chiudiamo tutto, 2 catenelle e ne abbiamo 4, sono 5 totali, perché ovviamente abbiamo 5 spazi sul ventaglietto sottostante, quindi facciamo 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, per l'ultima ne facciamo solo 1 di catenella, quindi nell'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse a metà, dopo averle chiuse insieme facciamo solo 1 catenella invece che 2, quindi carichiamo il filo ed entriamo nel prossimo spazietto tra le maglie alte, quindi nel prossimo ventaglietto, il primo spazio, entriamo e facciamo di nuovo, 1 chiusa metà, 2 chiusa metà, 3 chiusa metà, chiudiamo tutto, 2 catenelle, passiamo allo spazietto successivo, 1 chiusa metà, 2 chiusa metà, 3 chiusa metà, chiudiamo tutto, 2 catenelle e così via, ricordiamoci sempre, l'ultima, sull'ultima c'è solo 1 catenella, quindi ve lo faccio così non ci sono errori, 1 chiusa metà, 2 chiusa metà, 3 chiusa metà, chiudiamo tutto, 2 catenelle e siamo a 3, quindi adesso di nuovo, 1 chiusa metà, 2 chiusa metà, 3 chiusa metà, chiudiamo tutto, 2 catenelle, l'ultima, 1 chiusa metà, 2 chiusa metà, 3 chiusa metà, chiudiamo tutto, siccome è l'ultima, vedete ne abbiamo 5 su questo ventaglietto, 1 sola catenella e passiamo al modulo successivo, facciamo così fino alla fine del giro, eccoci arrivate al settimo giro, quindi ho chiuso con una maglia bassissima, nella prima delle 3 catenelle che incontriamo, dopodiché faccio 3 catenelle, in questo modo, ho cambiato filo, ma perché voi sapete che i campioncini li faccio con gli avanzini di filato e questo rosso mi è cambiato, però ai fini della spiegazione non cambia nulla, quindi ho appena fatto 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta e 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo tra i due gruppi di maglie e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, di nuovo ci inseriamo tra i due gruppi di maglie con un'altra maglia alta, in questo modo, scusate ho preso dentro il filo, ecco qui, altri 2 catenelle, di nuovo tra i gruppi di maglie, 2 catenelle, di nuovo tra i gruppi di maglie, 2 catenelle, saltiamo questo spazio ed andiamo con la maglia alta di nuovo tra i gruppi di maglie, in questo modo, 2 catenelle, di nuovo tra i gruppi di maglie, 2 catenelle, di nuovo maglia alta tra i gruppi di maglie, di nuovo saltiamo questo spazio, facciamo le 2 catenelle ed andiamo a lavorare di nuovo tra i gruppi di maglie, del ventaglietto, in questo modo, così, vediamo se si vede bene, perfetto, continuate così fino alla fine del giro, arrivata alla fine del giro ho fatto le 2 catenelle e conto, 1, 2, 3 catenelle, inizio, entro e ovviamente fate attenzione perché devono rimanere le 2 catenelle di separazione, quindi, ecco qui, vedete, ne devono rimanere 2 poi tra questa maglia alta e la successiva. Ora facciamo 3 catenelle, ci alziamo, sarà la nostra prima maglia alta e andremo a lavorare 2 maglie alti all'interno dell'archetto, in questo modo, e una maglia alta sulla maglia alta sottostante, quindi andiamo a riempire tutti i fori delle maglie create nel giro precedente. Di nuovo, 2 maglie alte nell'archetto sottostante e una maglia alta sulla maglia alta. Facciamo questo fino al termine del giro. Arrivati al fine giro, non facciamo altro che, come sempre, chiudere in cerchio entrando con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio. Ora, io, per il mio vestito, ecco, mettiamolo dal lato giusto, ho fatto 2 giri, in questo modo. Quindi, da qui, ho ricominciato con il primo giro, quindi le 2 maglie basse lavorate insieme, le 3 catenelle saltando le 3 maglie sottostanti e facendo di nuovo 2 maglie basse nella quarta maglia. Quindi, consiglio anche a voi di fare almeno 2 giri. Io, invece, ora vi faccio vedere, non proseguo ovviamente, questo è un campione, quindi voi, questo è lo sprone. Arrivati alla misura, potete farne 2 o più giri. Ecco, arrivati alla misura, quando riuscirete a chiudere, prendendo, ecco, il davanti e il dietro, riuscirete a chiuderlo sotto le ascelle, quindi lo scalfo manica, dovrete fare in questo modo. E lo vediamo insieme. Ci muniamo di 2 marca punti, che ci servono appunto per bloccare il lavoro. Tiro su un attimo il filo e faccio in modo che la chiusura rimanga al centro, in questo modo. Allora, nel progetto originale, per la mia taglia, che è una 42, io ho ottenuto, chiamerò disegno questa porzione di lavoro, quella col fiore completo, questa. Ne ho tenuti 5 sul retro, 5 su una manica e 5 sull'altra, quindi 5 che avvolgono la manica, quindi in totale. Questo è un campione, farò la chiusura così. Mentre sul davanti ne ho tenuti 6 di disegni, perché? Perché davanti abbiamo il seno, di conseguenza ci serve un po' più di vestito sul davanti, quindi lo sprone che sia un pelino più largo sul davanti. Quindi cosa facciamo? Adesso io vi faccio vedere brevemente come si chiude. Allora, ve lo farò vedere con due disegni, quindi prenderemo i due disegni, li chiuderemo a metà e li chiuderemo a metà finito proprio il disegno, quindi tenendo la parte di disegno quella centrale, questa dove c'è il foro grosso, cosa faremo? Metteremo il marca punti proprio in mezzo tra queste due maglie, quindi le due centrali lavorate sull'archetto da due, in questo modo. Andiamo a prendere sul retro lo stesso punto, quindi in mezzo alle due maglie del disegno sul retro e fermeremo in questo modo, così. Ecco qua. Dovremmo sempre stare su questa porzione di disegno, quindi dove si incontrano i due ventaglietti, ovviamente segnando poi sulle maglie alte, nell'archetto ce ne sono due, su ogni archetto ce ne sono due, noi entreremo in mezzo a queste due maglie alte. faremo la stessa cosa dall'altro lato, quindi facciamo la stessa cosa dall'altro lato, decidiamo quanti disegni completi devono starci e andiamo a individuare la maglia centrale in questo modo. Ecco qua. Ovviamente vedete il mio campioncino è piccolo, quindi qua rimarranno due disegni completi, due porzioni e di qua ne rimarrà solo una, sarà il nostro retro. Ecco qua. Una volta fermate le maglie in questo modo andiamo a fare un altro giro di maglia alta, così. Allora, 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. In questo caso questa la saltiamo, vedete che c'è questa, perché era quella di partenza che risulta in mezzo ai due ventagli. Questa la saltiamo e andiamo direttamente nella prossima, così siamo giuste con le maglie precise. quindi in questo modo andiamo a fare tutte le nostre maglie alte fino ad arrivare al marca punti e da lì ovviamente continueremo insieme. Arrivata al marca punti, lavoriamo la maglia alta proprio dentro la maglia, quindi aspettate, qua dove c'è il marca punti, dopodiché voltiamo il lavoro, carichiamo e facciamo una maglia alta proprio dentro dove c'è il marca punti, quindi comunque in mezzo alle due maglie, in questo modo. così abbiamo preso proprio la parte centrale del nostro disegno, vedete, sono entrata centrale tra le due maglie che ci sono dell'archetto e le altre due maglie alte al di sopra dell'altro archetto, quindi siamo esattamente alla metà e abbiamo creato la nostra prima manica. quindi continuiamo nello stesso modo, quindi a maglie alte, fino al prossimo marca punti. Quindi siamo arrivati all'altro marca punti, carichiamo, entriamo in mezzo tra le due maglie, ecco qui, voltiamo il lavoro, carichiamo ed entriamo di nuovo in mezzo proprio dove c'è il marca punti. adesso io lo vado a togliere, sennò non riesco ad entrare, ecco qua, tanto so esattamente dove devo andare, voi se volete lasciatelo, io ecco entro qui esattamente dove c'è il marca punti. Quindi proseguiamo fino a fine giro perché abbiamo già creato la seconda manica. arrivati a fine giro e chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio procediamo in questo modo, quindi adesso facciamo il cambio punto e facciamo in questo modo. Allora, una catenella, rientriamo alla base di questa catenella, quindi sulla maglia alta dove abbiamo appena chiuso il giro precedente, entriamo e creiamo una maglia bassa, dopodiché facciamo una, due, tre catenelle, carichiamo il filo e sempre nella stessa maglia sottostante andiamo a fare quattro maglie alte, aspettate perché non ho preso bene, ecco qua, quindi una, due, tre, e quattro, in questo modo, dopodiché saltiamo, ecco qua, saltiamo una, due, tre maglie sottostanti, sulla quarta entriamo con una maglia bassa. State bene attenti a contare questa maglia, quella subito dopo il nostro ventaglietto, perché ovviamente allargandosi, prendendo spazio col ventaglietto sulla maglia precedente potrebbe essere che non vedete bene quella successiva, quindi state bene attenti a contarla. Dopodiché, fatta la nostra maglia bassa, facciamo di nuovo tre catenelle, carichiamo il filo e sempre nella stessa maglia sottostante andiamo a fare le nostre quattro maglie alte, quindi andiamo a creare il nostro secondo ventaglietto trasversale, due, tre, e quattro, in questo modo. Vedete? Prende un po' spazio questa maglia a questa, contatela bene, uno, due, tre, le saltiamo, nella quarta rientriamo con una maglia bassa e di nuovo tre catenelle e di nuovo sulla stessa maglia sottostante andiamo a fare altre quattro maglie alte. Tre, quattro, quindi procediamo così fino al termine del giro. Arrivato al termine del giro, quindi fatto l'ultimo archetto, vedete, contiamo tre e nella quarta, proprio sotto dove abbiamo iniziato la prima maglia bassa ci uniamo con una maglia bassissima, quindi rimaniamo proprio alla base della nostra prima maglia bassa all'inizio del giro. Ora cosa facciamo? Facciamo due catenelle all'interno di questa, vedete, questo spazio, quindi sopra alle catenelle che abbiamo fatto per l'inizio giro, quindi ci alziamo nella parte più alta di questo archettino che abbiamo creato sopra alla maglia bassa. Voltiamo il lavoro in questo modo, non procederemo più in tondo da questo momento, ma in giri d'andata e ritorno. Quindi ci alziamo con quattro catenelle, perché è la prima maglia, quindi sarà la prima catenella che sostituisce la maglia bassa e le altre tre catenelle che sono quelle che facciamo sempre di norma sopra alla maglia bassa. Dopodiché carichiamo il filo ed entriamo proprio in quello spazio. Quindi non vi preoccupate se fa spessore, se fanno spessore queste catenelle, perché noi adesso le andiamo a coprire con le nostre maglie, quindi proprio tra le quattro maglie alte e la maglia alta e le catenelle sopra, andiamo ad inserirci, proprio in questo foro che si crea, con le nostre quattro maglie alte. Quindi una, due, tre e quattro. Ora saltiamo direttamente nello spazietto, nel prossimo spazietto, quindi quello dopo le maglie alte e messe sopra alla maglia bassa. Quindi, scusate, non carichiamo il filo, ci entriamo con una maglia bassa, ovviamente, perché dobbiamo fare in modo che si sdrai questo archetto. Dopodiché facciamo le tre catenelle e di di nuovo sempre all'interno di questo archettino, andiamo a fare le nostre quattro maglie alte. Tre e quattro. In questo modo. Di nuovo saltiamo sul prossimo gruppo, quindi proprio qui, nello spazietto con la nostra maglia bassa. Di nuovo uno, due, tre catenelle, di nuovo quattro maglie alte all'interno dell'archettino. Due, tre e quattro. Vedete? Si formano, ecco qua, le maglie incrociate. Un archetto va così e un archetto, scusate, un ventaglietto va in questa direzione e un ventaglietto va in questa e poi si creano di nuovo gli spazzettini per tornare indietro nel giro, nel prossimo giro. Quindi adesso io finisco il giro e vi faccio vedere come proseguire. Fatto il nostro ultimo ventaglietto andiamo ad agganciarci all'interno, vedete, dello spazio dove io ho iniziato a lavorare il primo ventaglietto con una maglia bassissima. Ora si fa nello stesso medesimo modo, quindi si fanno le catenelle e ci alziamo per fare il prossimo giro. Quindi volteremo il lavoro e procederemo con fare le nostre quattro catenelle e di nuovo i ventaglietti, quindi le nostre maglie alte che compongono il ventaglietto all'interno del nostro archettino, in questo modo, che fisseremo ovviamente con la maglia bassa nel prossimo archetto. Arrivati a questo punto, adesso ve lo giro sul dritto, ecco qua, non dobbiamo fare altro che procedere così per tutto il nostro busto. Se sarà necessario apportare delle diminuzioni faremo il cambio di uncinetto. Secondo me non è necessario, però visto che sotto al seno potrebbe esserci bisogno di diminuzioni, farei appunto il cambio di uncinetto oppure vi do un'alternativa nel caso dovrete stringere più volte, quindi potreste fare due giri col cambio di uncinetto e dopo un'ulteriore diminuzione in questo modo, ve la faccio vedere subito. Quindi ad inizio giro, quando ci ritroviamo, ecco, abbiamo fatto le catenelle per alzarci all'interno del primo ventaglio, non facciamo altro che fare invece di quattro catenelle farne tre, perché la prima sarà la nostra maglia bassa e due saranno le catenelle che poi vanno comporre l'archettino. Dopodiché carichiamo e all'interno dell'archettino sottostante, invece di fare quattro maglie alte, ne andiamo a fare soltanto tre. In questo modo diventa più piccolino e quindi ruberà spazio per arrivare al prossimo archetto, dove faremo la nostra maglia bassa, solo due catenelle invece che tre e solo tre maglie alte all'interno dell'archettino invece che quattro. In questo modo noi abbiamo apportato un'altra, vedete, un'altra diminuzione, quindi andiamo a stringere ulteriormente per il punto vita. Quando arriveremo poi a dover riallargare sui fianchi, prima riporteremo il lavoro come sopra, quindi a maglia bassa, tre catenelle e quattro maglie, dopodiché ricambieremo l'uncinetto per portarlo di nuovo ad una misura superiore. Quindi ora vi faccio vedere come invece ritornare a fare la nostra gonna. Arrivati quindi in fondo al nostro busto, noi avremo nel frattempo stretto un po' per la vita e riallargato un po' per il pezzettino di fianco. In quel caso, quindi noi fossimo arrivati lì, dobbiamo ricominciare a fare la gonna, quindi dobbiamo iniziare a fare la gonna con lo stesso motivo fatto sullo sprone. Quindi volterò il mio lavoro, facciamo in modo di essere sul dritto del lavoro, se no voltiamolo in modo che sia sul dritto. Io in questo momento lo sono perché ho fatto solo quei due girettini. Ci alziamo con una catenella, entriamo sempre nel solito archettino e facciamo la nostra maglia bassa. Dopodiché facciamo una, due, tre catenelle, entriamo nel prossimo archettino e facciamo la maglia bassa. Di nuovo, uno, due, tre catenelle, entriamo nell'archettino, maglia bassa, uno, due, tre catenelle, entriamo nell'archettino successivo, maglia bassa e così per tutto il giro. Quindi arrivati in fondo al giro, faccio le mie tre catenelle e ovviamente mi aggancio sulla prima maglia bassa. Inizio giro in questo modo. Ora devo ricreare, vedete, il nostro giro di maglie alte, quindi non faccio altro che fare tre catenelle e vado a lavorare tre maglie alte all'interno di ogni archetto, in questo modo, e una maglia alta sulla maglia bassa. Di nuovo, tre maglie alte al all'interno dell'archetto, due, tre, ho filato che scricchiola, e una maglia alta sulla maglia bassa, così da ricreare le stesse maglie che avevamo qui, per poi ricominciare con la lavorazione per la nostra gonna. Ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qui, abbiamo ricreato il nostro giro di maglia alta, vedete, per poter continuare poi con il motivo dello sprone, che diventerà la nostra gonna, diciamo. Quindi andiamo a fare una catenella, rientriamo sulla stessa maglia di base, adesso io ho fatto, ma ecco qua, un po' piccolino, maglia bassa e di nuovo rientriamo e facciamo maglia bassa. Di nuovo, uno, due, tre catenelle, saltiamo una, due, tre maglie sottostanti e sulla quarta andiamo a rifare le nostre due maglie basse. Di nuovo, tre catenelle e di nuovo saltiamo una, due, tre e sulla quarta due maglie basse. Quindi andiamo a prepararci il lavoro per ritrovarci qui. Quindi andiamo a ripetere quello che per noi è stato il primissimo giro all'inizio del nostro vestito. Io ovviamente mi fermo qui perché il mio campioncino è terminato. Come sempre vi invito a farmi vedere i vostri lavori sul gruppo Facebook Creando con Luce Franci. Come sempre vi invito ad andare a visitare la pagina Italia Artisan per i filati. Ci sono ecco le cakes che ho usato io, ma ce ne sono veramente tante altre che meritano la vostra attenzione e tanti altri filati. Ovviamente in descrizione vi lascerò il link diretto della cake, delle cakes usate da me perché ne ho usate due, ricordatevelo. Ne ho usate due per arrivare un pelino sopra il ginocchio. Se voi volete fare il vestito leggermente più lungo vi consiglio di prendere due lotti, cioè quattro cakes. Vi saluto come sempre, vi invito a lasciarmi i like sotto al video, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Vi mando un grosso bacio, spero vi sia piaciuto questo video, spero che sia comprensibile e vi sia utile. Ciao ciao da Luci, baci! Ciao! Ciao! Ciao!